Non ci sono solo green pass, mascherine e capienza del trasporto a catalizzare l'attenzione sul rientro a scuola del 15 settembre, c'è pure la decennale criticità di classi pollaio e carenza di spazi che si è ulteriormente acuita con la pandemia e con le relative raccomandazioni di distanziamento. In questi giorni però in alcune scuole superiori provinciali si stanno allestendo aule esterne al consueto perimetro scolastico. È il caso del liceo Marconi di Pesaro, un istituto che da anni è costantemente in crescita di iscrizioni sempre più difficili da collocare. La provincia ha prontato addirittura dei container, dei prefabbricati diciamo così, da adibire ad aule e devo dire che stanno lavorando lacrimente e sta venendo anche bene il lavoro. Noi abbiamo quattro aule esterne, ci saranno circa, per quattro, un po' più di un centinaio di studenti. Container modulare al liceo Marconi così come all'istituto Celli di Piobbico, nuove soluzioni realizzabili grazie al finanziamento da quasi mezzo milione di euro che la provincia di Pesaro Urbino ha ottenuto dal ministero dell'istruzione per nolleggi di strutture modulari temporane, adattamento a aule didattiche e affitti di nuovi locali in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2021-2022.